Con Everso sono convinto che esce l'anima più eversiva di TTC. Abbiamo voluto studiare, progettare e proporre un mezzo che veramente faccia divertire per gli aspetti che questo nostro nuovo telaio può offrire all'utilizzatore. Tutto ruota attorno al nuovo motore della Shimano EP8, un lavoro di Shimano che riteniamo veramente egregio e da lì è partito il progetto di questa e-bike da 160 mm, il primo vero progetto totalmente elettrico che TTC vuole mettere sul mercato. È un prodotto totalmente full carbon con una tecnologia di produzione evoluta, con un'anima interna di materiale espandibile, per avere un telaio leggero e molto molto resistente e abbiamo voluto riportare alla luce un sistema che potrebbe anche essere anacronistico come il monocross perché siamo convinti che nel campo della e-bike il monocross nel mondo enduro può dare sicuramente tanta tanta soddisfazione per due aspetti. Un sistema di ammortizzazione immediato, fluido, divertente e soprattutto un lavoro di manutenzione successiva veramente facile perché c'è un unico punto, un unico perno attorno al quale gira attorno questo grande forcellone. Una derivazione diciamo motociclistica dal mondo del motocross dove è ancora tuttora utilizzato. Può essere discusso per certi punti di vista ma grazie alla coppia del motore, grazie alla potenza che viene erogata dal sistema IP8, i punti negativi vengono sicuramente pareggiati. Dai primi test è una bici che dà grande soddisfazione. Le caratteristiche fondamentali oltre al monocross sono questo diamante nel triangolo anteriore che permette di scaricare le forze che provengono sia dalla ruota posteriore che dalla ruota anteriore, permettono di scaricare le forze sul tubo orizzontale e anche sul tubo oblico, quindi scaricando le tensioni che normalmente vengono tutte sempre riportate sul tubo oblico. La batteria Shimano propone 630 watt e questo sistema garantisce una lunghissima durata e un'altissima potenza, un'altissima coppia di pedalata. La bicicletta viene proposta con tre allestimenti, tutti e tre con il Shimano, tutti e tre con la forcella Zeb anche se in questo momento è montata la Lyric per ragioni di consegna e sarà una bicicletta proposta nel colore unico che è questo argento e bronzo, mentre chi vorrà potrà anche permettersi una colorazione totalmente custom. Sul nostro sito ttc.com potete trovare ovviamente tutta la descrizione tecnica del sistema e potete trovare gli allestimenti con i prezzi. La nostra E-Verso parte da 7.990 per il livello diciamo base, no non è mai base perché è una bicicletta montata molto bene, per poi passare ai 9.490 fino ai quasi 11.000 euro della versione top.